Un viaggio nel tempo, nel profondo della cultura disco, anni 80, Samuele Lunardi, DJ. Buon ascolto. 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. , Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti 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 Don't waste Grazie a tutti 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 Grazie a tutti